L'Unione Europea è un insieme di istituzioni che servono l'uomo, non se ne servono. Essere un politico italiano in Europa significa dare continuità al grande progetto che dopo la guerra riospitò la forza di libertà, di intraprendenza, il talento degli uomini liberi. Il progetto europeo per il quale lavoreremo in questi cinque anni insieme a Ursula von der Leyen, al Presidente Sassoli, a tutte le istituzioni e a tutti i governi è un progetto che parla di un'Europa unita che rispetta la dignità dei popoli che la abitano. È un'Europa fondata sul talento, fatta di umanità, di intelligenza e di apertura.